Consueta Assemblea dei Soci della Banca di Credito Cooperativa Sangro Teatina, ma questa volta un appuntamento di cruciale importanza, vero Presidente Vincenzo Pacchioli? Sì, oggi approviamo il 116esimo bilancio della Banca, lo approviamo con risultati più che soddisfacenti e ovviamente siamo impegnati in questa attività che adesso ci vede partecipare al gruppo di Cassa Centrale dal primo di gennaio. Una scelta che voi avete fatto insieme ad altre banche, soprattutto del Trentino, forse anche in controtendenza rispetto alla maggior parte delle banche di credito cooperativo, come mai? Perché noi siamo unitamente ad un'altra banca bruzzese, che è quella del Gran Sasso d'Italia, le uniche che abbiamo aderito al gruppo Cassa Centrale del Trentino. In realtà siamo in controtendenza in Abruzzo, perché poi ci sono 84 banche sparse sul territorio che comunque dalla Sicilia fino alla Val d'Aosta hanno aderito al gruppo Cassa Centrale. Quali sono i vantaggi di questa scelta secondo lei? I vantaggi di questa scelta è che comunque continuiamo a sviluppare la nostra attività, come abbiamo sempre fatto nel rispetto del localismo e della mutualità, ma lo facciamo all'interno di un gruppo più coeso e diciamo così siamo per certi versi garantiti anche dal punto di vista dell'attività e per quel che riguarda l'attività e l'operatività che abbiamo sul territorio. Un territorio sul quale siete molto radicati, tra poco ci saranno delle novità che riguardano una delle zone più ricche dell'Abruzzo, con la presenza e l'inaugurazione della nuova sede in Val di Sangro. Sì, la banca è stata fondata nel 1903 da Don Epimegno, ormai la storia è molto lunga ed è una storia gloriosa di questa banca a servizio del territorio. L'apertura della filiale a Piazzano dà il segnale della presenza e del radicamento sul territorio che abbiamo in questa importante zona industriale dell'Abruzzo e del Sud Italia intero. Voi siete radicati, lo ricordiamo anche nel Molise, è previsto un allargamento della vostra base territoriale? Nel Molise noi siamo radicati perché abbiamo in sostanza incorporato la BCC molisana ma comunque la presenza in queste zone è di una storia molto lunga che ha radici molto profonde con il territorio e con le comunità sulle quali insistono le banche. Fabrizio Di Marco, direttore generale della BCC Sangro Teatina, un'assemblea dei soci fondamentale come dicevamo col Presidente perché dall'anno prossimo cambieranno un bel po' di cose. Esattamente che cosa cambierà? Cambieranno perché da quest'anno, dal primo gennaio, siamo con il gruppo bancario Cassa Centrale che è il primo gruppo bancario italiano in solidità patrimoniale prima di ogni qualsiasi altro gruppo nazionale, ripeto per solidità. Abbiamo 1500 sportelli in tutta Italia ma comunque la banca di credito cooperativo Sangro Teatina non perde la sua autonomia, rimane comunque autonoma nel suo territorio, fa parte solo a questo chiamiamolo network o meglio una holding rovesciata dove siamo noi banche che siamo proprietari della holding. Questo ci consentirà di offrire alla nostra clientela servizi di alta qualità, di alta tecnologia, tant'è che già da giugno presenteremo la nuova app InBank e quindi i nostri clienti potranno fare comodamente come lo fanno già adesso ma con servizi più evoluti, comodamente tutti i servizi da casa, comodamente dalla loro poltrona. Quindi ci saranno anche altri servizi innovativi. Oggi qui in assemblea lanciamo appunto luce gas con E.ON quindi i nostri soci, i nostri clienti potranno acquistare energia e gas presso i nostri sportelli tra l'altro i soci avranno anche un bel risparmio del 20% sulla componente gas ed energia quindi un gruppo più solido, più coeso ma anche con economie di scala e con vantaggi grandissimi appunto perché quando si è in tanti si possono ottenere dei risultati migliori. Per quanto riguarda la nostra banca anche oggi presentiamo un bilancio positivo ai nostri soci quest'anno, l'altro giorno abbiamo festeggiato i nostri 116 anni 116 anni sono veramente tanti noi abbiamo un compito sicuramente molto importante quello di continuare con questa bella storia che iniziò Don Epimenio Giannico nel 1903 e oltre a consolidarla anche a continuarla a sviluppare è una grande soddisfazione perché in questi dieci anni di profonda crisi molte sono le banche locali che sono scomparse, non ci sono più nel nostro territorio di Abruzzo e Molise e avere questo risultato oggi, esserci ancora significa che forse qualcosa di buono per i nostri soci, per i nostri clienti, per il nostro territorio forse abbiamo fatto. Fabrizio Di Marco come è stato ricordato anche in una cerimonia a Roma ha attraversato un po' diversi lustri della storia di questa gloriosa banca del territorio come è cambiata la BCC nel corso di questi diversi lustri appunto? Io sono oltre 30 anni che appartengo a questa bella famiglia la famiglia della BCC San Groteatina e condivido questo percorso con i miei preziosi collaboratori che sono sempre disponibili e attenti al socio e al cliente certo io posso ricordare che comunque quando avevo appena 22 anni che ero in banca si facevano ancora le cose a mano si facevano ancora con i libretti scritti a mano io gestì tutto il cambiamento sulla tecnologia di allora ma le cose sono cambiate tantissimo oggi se pensiamo che ci troviamo in un contesto europeo dove è diventato tutto più difficile sotto certi punti di vista se pensiamo che per noi banche piccole, banche di comunità, banche locali abbiamo le stesse regole delle banche verticali quindi è come dire che un produttore di energia nucleare ha le stesse regole del produttore di energia eolica o fotovoltaica noi quindi soffriamo queste regole quindi non c'è una proporzionalità nelle regole però le dobbiamo affrontare perché noi teniamo il nostro territorio teniamo le nostre comunità e devo dire che con questi dieci anni grazie alle banche di credito cooperativo non solo la nostra la nostra come sapete è presente nella provincia di Chieti nella provincia di Campobasso e nella provincia di Sernia quindi in due regioni è stata una banca che è stata vicina al territorio al cliente continuando a concedere credito senza mai fermarsi e senza mai abbandonare la propria gente per concludere direttore come si è svolta questa giornata al teatro comunale? è una giornata che comunque questa è la sintesi di un lavoro di un anno il bilancio si tirano un po' le somme e si guarda chiaramente a futuro con un nuovo sguardo una nuova prospettiva un nuovo entusiasmo io devo dire che sono fortunatissimo perché come dicevo prima ho un gruppo ho una squadra di collaboratori che sono persone prima di tutto che parlano con le persone e nello stesso tempo danno soluzioni e con grande competenza inoltre devo a questo punto ringraziare anche la grandissima competenza del Presidente del Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dottor Pacchioli che al primo anno del suo mandato ha tutto il Consiglio di Amministrazione e anche alla grande competenza del Collegio Sindacale che è deputato appunto ai controlli del bilancio